Amici dello sport, amici delle due ruote, ben ritrovati anche questa settimana MTB Gran Fondo. Però questa settimana, dalle incantevoli località del Lago di Garda, restringiamo le ruote delle nostre biciclette. Dalle ruote grasse, che siete abituati a vedere nella nostra trasmissione, torniamo alle ruote strette, ovvero al ciclismo su strada. L'opportunità ce la dà il grande avvenimento della South Garda Road, avvenimento sportivo abbinato da alcuni anni a questa parte, anche alla South Garda Bike, gara in mountain bike, che ben conoscete quando seguite la nostra trasmissione, perché ve l'abbiamo proposta fin dall'inizio, e da Desenzano sul Garda queste incantevoli immagini ci introducono alla prova su strada. Una prova su strada che ha però una sua filosofia molto particolare, non è una gara agonistica nel senso più puro della parola. Sono sì 130 chilometri attraverso oltre 20 comuni delle province di Brescia e di Mantua, ma c'è uno spirito in più. Per parlarvi di questo spirito particolare, quest'oggi abbiamo due ospiti di eccezione, ovvero abbiamo il presidente di Sports Nature Tour, il gruppo organizzatore di queste manifestazioni, che è Tazio Palvarini, e fra poco lo coinvolgeremo nella presentazione di questo evento, perché da queste prime immagini potete vedere che la South Garda Roda ha offerto un flashback, un bellissimo, emozionante, anche commovente per certi aspetti, ritorno al passato del ciclismo. Guardate che attraverso la Garda Legend si sono ripresentati in sella le loro bici da corsa vintage, personaggi come niente meno che Gianni Motta, e vedremo più avanti nel corso della nostra ampia sintesi filmata, curata da Alcamedia Videoproduzioni, Francesco Moser, ma voglio dire Claudio Chiappucci, che è lì che sta scalpitando per prendere il via. È stato uno degli eventi collegati a questa due giorni ciclistica che ha voluto coinvolgere nel suo svolgimento, soprattutto le famiglie. Tazio Palvarini è qui con noi quest'oggi per parlarvi, mentre Paolo Malfer ha fatto ovviamente da abilissimo speaker di questa manifestazione, dicevamo appunto di questo spirito, non solo una gara di 130 chilometri, e non solo di 130 chilometri, poi ve ne parleremo, intanto ecco il grande Francesco Moser con la divisa della provincia di Brescia pronto a prendere il via. Che cos'era esattamente questa manifestazione che si è svolta tra sabato 29 e domenica 30 settembre? Cioè lo spirito della South Guarda Roda. La parola a Tazio Palvarini. Sì, buongiorno a tutti. Sì, questo non è solo una gran fondo, infatti è un weekend dedicato a sport, famiglie, vediamo qua il lungo filone che fa ancora venire la pelle d'oca a vederne queste immagini. Sì, è un weekend che ha portato sulle nostre strade, la strada del Lago di Garda e Colline, ha portato 2000 atleti ma non solo, tutte le famiglie, bambini con i vari eventi collaterali. Abbiamo portato vari eventi anche sotto l'aspetto sociale, con una cena di beneficenza il sabato sera, l'associazione Abbio per i bambini. Abbiamo portato il gruppo dei trapiantati, un gruppo trapianto per la vita, dove hanno partecipato con un pettorale dedicato che la vita continua anche dopo aver subito un trapianto. Infatti hanno percorso il percorso medio con Andrea Tonti, ex professionista. E poi la family bike con gusto, una passeggiata in mezzo fra le colline moreniche del Garda, una pedalata con le famiglie. Prima abbiamo visto partire i campioni del passato, insieme a loro sono partiti, avete visto poco fa, gli atleti che hanno scelto il percorso corto. L'offerta della South Garda Road era infatti questa, 60 km, 103 o 130. Ora tra poco partiranno gli atleti del percorso medio e corto. Intanto ecco Claudio Chiappucci, Tazio. Sì, Claudio Chiappucci fa parte del nostro gruppo, è sempre venuto alla nostra manifestazione in mountain bike. Federico Birtel, esperto biker della mountain bike. Ed ecco Tazio insieme a Claudio Chiappucci, l'assessore provinciale al turismo e cultura della provincia di Brescia, appunto Silvia Razzi. Ecco intanto gli amici che citavi in precedenza, gli amici trapiantati che stanno per prepararsi alla partenza. Suggestivi da brivido, le immagini dall'elicottero. Mancano pochi minuti alle ore 9, allo start. Linea Paolo Malferda, la zona della partenza. Mancano pochi minuti alla partenza di questa quarta edizione della Gran Fondo South Garda Road. 2.000 partenti, tra cui anche Claudio Chiappucci che sta per essere intervistato dalla Grazia, speaker della manifestazione. Al via tanti atleti, tra cui il vincitore dell'anno scorso. Una grande città questa che dà spazio allo sport, al grande ciclismo e alla solidarietà. Con Francesco Moser che è già partito per il percorso corto e Gianni Motta accanto a lui. Fra poco la partenza sarà davvero una grande emozione. Intanto si brinda a Scumante Lugana alle 9 del mattino. Coraggio, vorrà dire che dopo si canteranno anche delle canzoni per riscaldarsi durante il percorso. E gli atleti sono scattati in questo momento. Allora, non c'è solo Tazio Palvarini a commentare con me questo eccezionale evento. Come vi dicevo, che noi seguiamo con particolare attenzione perché, come sapete, è abbinato anche alla South Garda Bike, gara di mountain bike che MTB Granfondo fin dall'inizio segue con particolare attenzione. Ho il piacere di avere con me quest'oggi anche Gianluca Bosio che è il responsabile del percorso. Gianluca, benvenuto. Una breve illustrazione del tracciato di questa South Garda Road, in particolare del percorso di lungo 130 km. Gianluca, allora, che cosa caratterizza il percorso della South Garda Road? Intanto, buongiorno a tutti. Il percorso è caratterizzato dai passaggi in salita e le cose che si svolgono lungo la Val Tenesi e le colline moreniche. Il percorso lungo ha in particolare una salita insidiosa di 6 km con una pendenza massima del 18% e una pendenza media del 15%. Sono oltre 20 i comuni attraversati dai ciclisti. Anche la collaborazione delle amministrazioni locali, com'è stata? Com'è, anzi? Anzi, è molto buona, tutti sono interessati a questa manifestazione, infatti abbiamo avuto un'ottima collaborazione da tutti i comuni interessati. E soprattutto, dicevamo anche prima di partire con la nostra telecronaca, gli atleti arrivano da quest'anno in particolare anche da alcuni paesi europei, non soltanto dall'Italia e poi le fasce di età sono le più varie. Certamente, infatti quest'anno hanno avuto molto interesse anche dalla Germania, dalla Svizzera e dall'Austria. Intanto vedete che iniziano le prime schermaglie, dove ci troviamo in questo punto. Beh, gli ultimi stanno lasciando ora ad Esenzano, mi sembra. Certamente, infatti hanno impiegato più di 5 minuti a transitare tutti sulla partenza. Che numeri ha riscontrato questa South Garda Road 2012, Gianluca? Quest'anno abbiamo avuto un buon successo, sebbene il tempo non sia stato dei migliori nei giorni precedenti, ma abbiamo fatto 2000 iscritti. Allora, andiamo ora dopo le immagini davvero bellissime dall'elicottero di Alcamedia Videoproduzioni e il lungo serpentone dei ciclisti, ci portiamo in testa al gruppo. Ecco dove troviamo a fare l'andatura Simone Boscaini, numero di gara 206, è lui che tira in fila indiana il lungo gruppo, lunga compagine degli atleti in gara. Boscaini, vincitore dell'edizione 2010 della South Garda Road. Allora, Gianluca, dopo l'uscita da Desenzano, cosa si aspettano gli atleti in gara? Certo, adesso qua siamo attorno all'ottavo chilometro, fra due chilometri comincia il primo strappetto, che è il primo sgranaggio del gruppo. Serve a fare selezione. Esatto, esatto, e questo qua è uno strappetto molto semplice di un chilometro e mezzo con una pendenza del 5%. Benissimo, la giusta selezione che serve insomma a scatenare, a fare strada ai primi, ai più veloci, e a concedere ai tantissimi amatori che insomma hanno un ritmo tutto loro, di poter viaggiare in tranquillità e poter fare gara diciamo alla loro andatura. Vi dicevo, oltre 1900 gli atleti, i ciclisti e le cicliste che sono scattati al via alle 8.30, come avete visto, quelli del percorso corto, 60 chilometri insieme ai campioni di una volta per la Garda Legend. Avete visto, è stato bello rivedere questi campioni, alcuni dei quali abbiamo avuto anche modo di conoscere, di vedere in televisione nella nostra infanzia. E poi, dicevo, alle ore 9, la gara che stiamo seguendo con le nostre telecamere è quella del percorso medio, definito dagli organizzatori, stilato su 103 chilometri e il lungo di 124. Cartello di Soiano del Lago, chilometro, mi rivolgo ovviamente a Gianluca Bosio, responsabile del percorso. Ecco, qua siamo al quindicesimo chilometro. Sui 130 previsti, esatto. Ci continuiamo a risalire ora con la moto, il lungo serpentone del gruppo degli atleti, vi dicevo, oltre 1900. Dopodiché il percorso si caratterizza da cosa, Gianluca? Ecco, qua stiamo scendendo verso il comune di San Felice del Benaco, ci stiamo avvicinando ancora più vicino al lago, un posto turistico molto bello che è immerso negli olivi e nei vigneti. Di questa zona appunto, della zona del Garda. Quanto manca alla temuta salita del Tesio? Ecco, qua siamo circa a 30 chilometri dalla salita. Quindi c'è ancora tempo prima di quella che sarà forse l'asperità più attesa, più temuta anche dai ciclisti? Certamente, infatti i ciclisti la temono molto perché è una salita non molto lunga ma molto intensa. Ecco, per esempio che percentuali raggiunge? Ha una pendenza media del 15% con delle punte massime al 18, è lunga 6 chilometri e si raggiunge una quota massima di 740 metri. Quindi insomma sarà decisamente forse quella che deciderà la gara, ma vediamo. Intanto siamo tornati in testa, la Moto 1 ha raggiunto, si è formato un quartetto. Vediamo di individuare gli atleti che stanno tentando l'allungo nei confronti degli altri ciclisti impegnati in questa South Garda Road. Sono Riccardo Toia, C Performance Factory Team, Andrea Pagliani, Pata Jollywear, l'ex professionista Fabio Sacchi, BMC Team e Roberto Cunico della Unione Ciclistica Lugo-Cicli-Berardo. Sono questi quattro corridori ad essersi staccati dopo il quindicesimo chilometro di gara dal pattuglione dei 1900 ciclisti impegnati in questa South Garda Road edizione 2012. Un allungo che ci sembra piuttosto determinato, si danno il cambio in testa al quartetto, fasi quindi piuttosto interessanti. Ecco, ora li rivediamo nella ripresa di fronte e vediamo che hanno accumulato già diverse centinaia di metri. Dove siamo in questo punto Gianluca Bosio? Ecco, qua ci troviamo sulla salita delle zette di Salò. Ecco il gruppo degli inseguitori. E' una salita impegnativa anche questa qua, non lunghissima, ma presenta diversi tornanti e fa anche questa una certa selezione. La salita comunque continua fino a Puegnago. Chilometro. Qua siamo attorno al chilometro 30. Allora la fuga dei quattro al momento sembra riuscire e tutto il gruppo compatto li insegue, distaccato di alcune centinaia di metri. Allora vediamo, li stiamo vedendo uno a uno, i quattro leader, a cominciare dal numero 14, che è appunto Riccardo Toia che ora ha ceduto l'andatura all'atleta della BMC Fabio Sacchi, l'ex professionista. La strada comincia a salire sotto le ruote dei quattro fugitivi che ora però prendono l'iniziativa in tre. A questo punto linea nuovamente nella zona del traguardo perché l'assessore provinciale al turismo e cultura della provincia di Vrescia, Silvia Razzi, ci presenta nel dettaglio l'importanza di questa manifestazione sportiva. La South Garda Roda è una manifestazione importante che unisce il turismo sportivo, ossia quel gap importante per il territorio bresciano, per il territorio gardesano, per veramente destagionalizzare. 1.800 atleti vuol dire un indotto di 4.000-5.000 persone fra sabato e domenica che vivono il territorio. Sono stati organizzati degli eventi ad hoc con lo spostamento delle famiglie per far conoscere le eccellenze bresciane, l'eccellenza del territorio, credo molto nella manifestazione sportiva per portare incremento turistico. Ci stanno credendo molto anche i leader di questa corsa, Francesco Scarsella, SD Valdiforo Cycling, tenta l'allungo, lo segue da molto vicino Domenico Romano del Pata Nuova Arca Redamenti, poi li vediamo nuovamente impegnati lungo la salita del Tesia, un terzo di gara. Di nuovo la parola a Gianluca Bosio per raccontarci di questa asperità da affrontare. Certamente, questa qua è l'asperità più insidiosa di tutta la gara, infatti lunga 6 km, è una pendenza media del 15%, con un punto massimo del 18%. Questa è una salita temuta da tutti i ciclisti, infatti poco prima c'era il bivio, poi vediamo una caduta, si vede anche la difficoltà dei ciclisti che hanno nel salire questa salita. Gli atleti dondolano sulle loro biciclette, la salita del Tesia da un certo punto di vista non perdona, fa selezione, però vediamo che Domenico Romano, il corridore della Pata Nuova Arca Redamenti, ha saputo allungare e capitalizzare le sue energie staccando questo sestetto. Azione quindi piuttosto determinata di Domenico Romano, mentre vedete con il 91 ha perso un po' di terreno Scarsella, che nei chilometri, fino a pochi chilometri prima, era al comando. Ancora impegnato Riccardo Toia, tra i primi, nei primi chilometri di corsa, ora forse paga lo sforzo in salita. E vediamo via via tutti gli altri, ricordo gara aperta alle diverse categorie per fasce di età, quindi con la possibilità di cimentarsi anche nella salita famosa, famosa anche perché percorsa anche da ciclisti professionisti del Tesio. Prego Gianluca. Certamente, qua adesso ci stiamo avvicinando più o meno a metà di questa salita, sempre una salita che la notte prima ha avuto uno bello scoscio d'acqua, infatti la vediamo che è ancora leggermente bagnata, ed è ulteriormente più difficile perché ha un grip le gomme sull'asfalto bagnato, devono cercare di stare anche seduti su questa salita. Tra gli atleti impegnati abbiamo visto anche il vincitore dell'edizione 2011, Marco Spada del team MGKVS LGL Wiener, anche lui impegnatissimo in questa, non troppo lunga, ma diventa lunga per l'impegno che richiede, salita del Tesio. Certamente, infatti è una salita che alcuni ciclisti l'hanno sopravviata al piccolo Montiolo, proprio per la difficoltà che c'è nella frontalla. Ci sembra un appellativo assolutamente calzante, ricordo i chilometri sono 130 fino all'arrivo, che sarà di nuovo posizionato ovviamente a Desenzano del Garda, quindi siamo ancora a poco più di un terzo di questa competizione, c'è ancora da salire. Però vedo che gli atleti non si perdono d'animo, anche quelli impegnati nelle posizioni di rincalzo, è importante esserci a questa South Garda Road proprio per la qualità del percorso che offre e come vi dicevo, dalla riva, dal lungo lago di Desenzano del Garda sono partiti questa mattina in ben 1900 ciclisti. Il gruppo di testa è composto da Alessandro Bertuola, da Fabio Laghi, che transita primo al Gran Premio della Montagna al termine della salita del Tesio e tradizione vuole che, almeno per le edizioni precedenti, si è confermata per ben tre volte che chi è transitato primo sul Tesio ha anche vinto poi la South Garda Road. Poi fanno parte ancora del sestetto Riccardo Toia, Michele Rezzani, Matteo Bordignon e Paolo Minuzzo. Questo è il sestetto che si va un po' ora sfilacciando. Questa è la situazione in cima al Tesio. Io ora ridò la linea a Desenzano del Garda, eccoli qua, gli spettatori intanto si stanno gustando gli stand espositivi. Do la linea a Paolo Malfer, nuovamente sulla linea dell'arrivo. Un'ora di gara in questo momento, quarta edizione su Garda Road, 2000 atleti al via e con noi sono arrivati i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Desenzano che abbraccia con grande entusiasmo questo progetto del ciclismo e della promozione del territorio. Con me ci sono i due assessori dell'amministrazione comunale di Desenzano, assessore Righetti e assessore Maffi. Inizio da lui, allora, davvero una grande festa quest'oggi di sport, ma anche di costume sociale. Sì, una grande festa, come dice lei. Siamo stati fortunati, il tempo si sta assistendo, i corridori sono partiti, tutto bene, si stanno comportando bene, sembra che il tragitto stia piacendo, e li stiamo aspettando qui a traguardo, fiduciosi, insomma, che per loro sia una grande giornata di pedale. Assessore Maffi, il resto col Nago, che è qui ospite con noi, ha detto che questa gara potrebbe arrivare a 4.000 partenti, e quindi ha già dato un input positivo a questa manifestazione. Allora accogliamo con forte entusiasmo la volontà di poterla incrementare, magari non facciamolo di colpo, facciamolo piano piano, anche perché in questo modo riusciremo a far assaporare il nostro territorio a più persone possibili che riescono ad apprezzarlo per la sua bellezza, per la sua naturalezza e per quanto riesce a darci. A Sud Garda Road, vicino alla solidarietà, ieri abbiamo visto nella cena ufficiale, cena del volontariato, in presenza c'era anche Abio, per l'associazione Bambini in ospedale, dove tutti quanti noi siamo stati molto vicini, col cuore. Sì, questa la leggo come una grande opportunità, che la bicicletta non sia solo un momento di svago, turismo o sport che sia, ma che sia anche un momento di solidarietà verso chi sta peggio di noi, verso chi ne ha bisogno e poter aiutare, in questo caso Abio, per prendersi mi sembra nel giorno della festa nazionale dell'associazione, mi sembra veramente un risultato importante, alla quale noi come amministrazione di Desenzano, ma penso tutti, è una causa che possiamo sposare con assoluta dedizione. Assessore Maffi, potremmo mettere un titolo, puntini puntini aspettando il 2013? Sicuramente, sicuramente perché l'impatto di questa manifestazione nel territorio è buono, sicuramente il territorio riesce a ricepire e a percepire questa esigenza, perché sicuramente è la promozione del territorio del quale noi abbiamo bisogno per farlo conoscere, per cui il 2013 ancora una volta a braccia aperta, aspetteremo questo evento. Però prima del 2013 aspettiamo i concorrenti, ancora un paio d'ore e poi ci siamo. Sessantaseiesimo chilometro, gruppo compatto, il sestetto di testa è stato assorbito dal resto dei concorrenti, a fare la natura ora è Alessandro De Gasperi della Val di Foro Cycling, siamo in comune di Prevalle, il gruppo si allontana in fila indiana, siamo alla quarta South Garda Road, Tazio Palvarini, presidente del Sodalizio, che è lo Sport Nature Tour. Tazio, da quattro anni a questa parte, nonostante la crisi economica che non si può negare, i vostri sponsor non vi hanno mai abbandonato, anzi? No, anzi, abbiamo sempre avuto un incremento, un avvicinamento, c'è da dire che è stato sempre un gran lavoro, abbiamo sempre lavorato tanto per far sì che questo evento crescesse anche nei termini internazionali, infatti abbiamo visto già a questa quarta edizione già un 20% di stranieri, questo vuol dire che il lavoro di promozione che abbiamo fatto durante l'anno ha portato il suo risultato. Infatti Fantini, che è un'azienda che lavora strettamente nei paesi del Nord Europa e America, ha creduto molto in questo evento per la sua internazionalità e questo ha fatto sì che anche lui è soddisfatto di questo grande appuntamento. Grande movimento intanto in testa alla corsa dove Francesco Scarsella ha dato il cambio al compagno di colori Alessandro De Gasperi, poi c'è in posizione di attesa a Guardingo ad assestare il suo colpo anche l'italiano naturalizzato, il russo naturalizzato italiano Dimitri Nikandrov, anche lui della Val di Foro Cycling, poi vediamo col 9.29 Matteo Bordignon, molto attivo da un po' di chilometri a questa parte nelle primissime posizioni. Avanti si fa spazio, domenico chiedo scusa, con il 206 nuovamente Simone Boscaini del gruppo sportivo Tour Nover e vincitore dell'edizione 2010 di questa competizione gardesana. Allora, fasi molto nervose, gli atleti sentono che è passata la metà gara e quindi c'è da dare una svolta a questa competizione, a questa quarta South Garda Road, vi ricordo, partenza e arrivo da Desenzano del Garda, Brescia, 24 i comuni attraversati principalmente nella provincia di Brescia ma anche nella provincia di Mantua. Questo almeno per il percorso di 130 chilometri. Ricordo due i tracciati, 130 chilometri, 103 e 60. I corridori impegnati nel percorso di 60 chilometri sono segnalati a non molto dall'arrivo e fra poco avremo modo di vedere allora di darvi l'esito della gara che si è svolta sul tracciato corto insieme anche alla Garda Legend, chiedo scusa, questa gara Amar Kord dedicata appunto alle vecchie glorie del ciclismo che sono partite e hanno affrontato il tracciato di 60 chilometri. È il momento quindi di tornare a Desenzano, do la linea nuovamente a Paolo Malfer per un aggiornamento dalla zona dell'arrivo. È passata più o meno un'ora e mezza, stiamo aspettando i concorrenti del cosiddetto percorso corto, più o meno 60 chilometri, temperatura ideale, molto calda in questo ultimo weekend di settembre, quarta edizione della Sud Garda Road, 2.000 partenti, stiamo aspettando tra l'altro Francesco Moser e Gianni Motta che sono partiti appunto con gli amici della Legend con biciclette davvero storiche. Tutto è pronto, l'adrenalina si sta alzando, fra poco si inaugurerà dunque il primo arrivo, fra pochissimo. Ed ecco allora che Fabio Bondi, team Carpentari, a precedere allo sprint Andrea Gasperi del team Ciclomania. Grandi festeggiamenti per Bondi, terzo gradino del podio per Fausto Ferretti Oichi, team ASD. Ecco la rivale. Arriva anche Francesco Moser che sentiamo ora intervistato da Grazia De Santis. Siamo qui insieme a Francesco Moser che è arrivato proprio adesso nel percorso corto, 60 chilometri. Come l'ha vissuta questa competizione? Che cosa ha provato a ripresentarsi, a rimettersi in gioco? Beh, in gioco... Io non gareggio proprio, partecipo. Sono partito davanti ma appena abbiamo lasciato il paese di Zenzano c'era questa salita e lì l'ho lasciato andare i migliori perché andava troppo forte. Poi ho trovato un gruppetto che andava bene, ho visto che andavano a mia velocità e siamo venuti qua assieme, tiravamo un po' per uno. Il percorso è impegnativo perché ci sono tante curve su e giù, continui cambi di ritmo e alla fine diventa impegnativo. Grazie, grazie ancora a Francesco Moser, un campione, un campione italiano. Eccoci qui in compagnia di Gianni Motta, classe 1943, diciamo che è veramente un pezzo della nostra storia del ciclismo italiano, un sacco di premi venduti, un giro d'Italia, un giro di Lombardia, insomma veramente tante le vittorie che ha portato a casa ma so che ha dato del filo da torcia nella sua carriera a Eddie Merckx insomma che è altro campione che so che la vedeva insomma con un occhio in pericolo quasi quando la vedeva in competizione. Sì, diciamo che a parte che gli facevo solletico, qualche volta l'ho battuto ma non vuol dire, però quando ci si trovava testa a testa l'ho battuto diverse volte. Eh beh, sono soddisfazioni comunque. Sì, diciamo che Merckx ha rovinato un pochino ma ci ha fatto anche fare il nome, non è vero, però ha dato una mano a creare un attimino l'anti... qui in Italia si può dire che ero io l'anti-Merckx perché appunto quando si arriva la testa a testa in volata e riuscivo a batterlo. Però non vuol dire niente, guarda, perché Corlatti vinceva 50 corse all'anno e noi ne vincevamo 15-20 quando andava bene. Eh vabbè, comunque sempre soddisfazioni. Questa gara, come è andata? Questa giornata come l'ha vissuta? È stato piacevole? Ha avuto momenti di difficoltà? Oppure diciamo che la sua carriera l'ha fatta vivere di rendita per questi sforzi? Vivere di rendita. Non è vero, io a dire il vero in bicicletta, anche quando correo, non è che facevo più di tanta fatica, quindi puoi immaginare se la faccio adesso quando faccio queste manifestazioni. Questa corsa è partita bene oggi perché non è piovuto. È arrivata bene, meno il mio percorso perché ho fatto il percorso corto. Ho trovato un bel gruppettino che si andava via 45-40-45-50, quindi ho fatto la mia sudatina giornaliera per la salute, perché io ho dimicciato per la salute. È bello, un bel percorso, una bella organizzazione perché tutti gli incroci erano sotto controllo, quindi bello, bello. I primi sono a Pozzolengo, mancano 32 chilometri alla conclusione di questa gara. Beh, Tazio Palvarini, i complimenti di Gianni Motta fanno inorgoglire, non c'è che dire, voi dall'organizzazione. È un grande lavoro, è un lavoro che dura un anno, parlava proprio di presidio, oltre 200 persone sono dedicate al percorso, grazie a Gianluca e a Sandro Cobelli che lavorano sei mesi per organizzare il tutto. E poi un grande lavoro di sicurezza, abbiamo avuto un atleta che ha avuto un malore e che ha avuto un attacco cardiaco e la nostra organizzazione, i nostri staffi volontari e l'equipe medica è riuscita con il defibrillatore a salvare questa persona che adesso si ritrova all'ospedale in camera intensiva, ma è ancora fra di noi. Davvero lodevole questo aspetto, lo dico io che non sono di certo un esperto ciclista, ma dopo i complimenti di Gianni Motta e questa sottolineatura di Tazio Palvarini, non c'è che, da un certo punto di vista, essere contenti di questa organizzazione e di quanto questa organizzazione è riuscita a risolvere davanti a un imprevisto molto molto grave. Allora, attenzione però, torniamo in cronaca perché questo manipolo di ciclisti, una decina se non sbaglio, potrebbe essere quello dal quale uscirà il vincitore della South Garda Road edizione 2012. Allora, tra i dieci abbiamo potuto scorgere Fabio Laghi, Team MG Kavis Wiener, eccolo, poi abbiamo visto molto attivi fino a poco fa anche Simone Boscaini, vincitore, eccolo, dell'edizione 2010 e Domenico Romano. Ecco, Boscaini ora a chiudere questo plotone, il numero 9 Fabio Laghi con il numero 3 Alessandro Bertuola con il 274 Roberto Cunico con il 14 sempre tra i primi Riccardo Toia con queste le posizioni tra i primissimi che sicuramente si disputeranno la vittoria finale. Una decina allora i corridori staccatisi dal gruppo dei partecipanti al percorso lungo. intanto si fa strada vedete Fabio Laghi mette a frutto la sua esperienza e recupera la testa del gruppo va a tirarlo alla sua ruota col 308 Domenico Romano poi con il numero 3 Alessandro Bertuola con il 14 ci toia con il 91 Francesco Scarsella ma l'elicottero ci ridà una emozionante immagine del porto di Desenzano davvero suggestive queste immagini girate dal Camedia videoproduzioni noi torniamo a vedere nuovamente dall'alto la bellissima cittadina Gardesana perché stiamo aspettando insieme al numeroso pubblico l'arrivo del percorso medio anche questo si risolve allo sprint con la vittoria del Bresciano Nicola Loda secondo Stefano Farè terzo sul podio Francesco Pecchini mentre Astrid Schartmuller la tedesca si porta a casa il primo posto tra le donne vittoria per distacco a 4 minuti Emanuela Rinaldi a 5 Sabrina Zogli intanto ecco vedete Nicola Loda l'ex professionista intervistato da Paolo Malfer ma noi sentiamo al microfono di Grazia De Santis l'opinione di El Diablo Claudio Chiappucci al termine della sua prova ed è qui con noi El Diablo Claudio Chiappucci ci vuoi spiegare la maglia che indossi che significato ha so che tu ne hai indossate tante però diciamo che questa insomma è proprio adatta per questa occasione ci vuoi dire due parole? Eh sì l'occasione intanto di questa prima Gran Fondo comunque non avevo mai partecipato poi rappresenta la provincia di Brescia comunque è un po' così anche di bestia del reale di Etano mi è stato chiesto dall'inizio ho tenuto fede sono stato sia la presentazione che la cena di soledità ieri sera prima della gara è andata bene anche la gara la gara ha avuto momenti un po' di difficoltà in cui hai detto adesso mi ritiro è difficile perché sono tanti gradori forti hanno voglia di andare forte di fare fatica io tra ieri l'altro ieri ho viaggiato tanto ho fatto anche altre gare faccio anche altri sport devo dire che mi sono difeso bene sono contento che non pensavo neanche di poter andare così bene è bravo Chiappucci allora che si mantiene a discreti livelli nonostante l'età e il ritiro dall'agonismo invece i nostri amici ciclisti hanno sforato in provincia di Mantua ovviamente sforato perché il percorso glielo consente siamo a Cavriana chilometro 102 lo chiedo al nostro ospite a Gianluca Bosio responsabile del percorso certamente infatti siamo già a circa 25 km dalla fine questa è l'ultima sperità quindi l'ultima salita e mi sembra che il gruppetto di testa abbia perso qualche atleta per la strada di 10 il tutto per tutto se lo giocano secondo me in 8 cosa ne pensi Gianluca Bosio sì io penso che ormai i giochi siano fatti cioè dopo l'ultima sperità di Cavriana penso che ormai sia tutto tra questi 8 atleti che sono rientrati in provincia di Brescia se non ho visto male ho visto il cartello dove siamo siamo a Pozzolengo qua ormai siamo vicini al traguardo circa 15 km ci stiamo andando verso San Martino dove anche questo è una località turistica benissimo allora abbiamo visto tra i primi non manca Boscaini vincitore dell'elezione 2010 ora però è passato a condurre nuovamente Toia di nuovo cambio con Cunico discussioni tra gli atleti su come gestirsi gli ultimi chilometri davvero appassionanti di questa quarta South Garda Road partenza arrivo da Desenzano la torre questa è la torre di San Martino qua ormai siamo al decimo chilometro chiude il gruppetto di testa vedete con il numero 9 Fabio Laghi team MGKVis LGL i corridori sulla destra sono degli amatori impegnati ancora nel percorso corto dobbiamo seguire con attenzione questo plotoncino sulla sinistra della sede stradale sede stradale asciutta Tazio Palvarini per fortuna gara graziata dalle condizioni meteo sì abbiamo aspettato fino all'ultimo a potenziare maggiormente la sicurezza perché era prevista pioggia dopo il meteo ci ha graziati proprio nelle ore di gara e tutta la giornata era proprio un meteo ideale per andare in bicicletta ti interrompo perché siamo agli ultimi chilometri l'andatura in questo momento la sta facendo Alessandro Bertuola Wiener Michele Nautilus alla sua ruota Roberto Cunico Lugo Cicli Beraldo eccoli la gara si deciderà con una volata a quattro della quale fanno parte anche Domenico Romano ASD Pata Nuova Arca Redamenti e Fabio Laghi in coda al quartetto Team MGK Favis vediamo allora ultime fasi parte la volata lanciata da Bertuola per ci sembra Fabio Laghi davanti a tutti Fabio Laghi si della MCK Favis ce la fa e si aggiudica allora in tre ore diciotto minuti e ventuno secondi allo sprint questa emozionante South Garda Road ordine di arrivo Fabio Laghi Domenico Romano Roberto Punico Alessandro Bertuola quinto Simone Boscaini sesto Francesco Scarsella ecco Fabio Laghi visibilmente soddisfatto del suo risultato succede nell'albo d'oro di questa South Garda Roda Marco Spada vincitore dell'edizione 2011 sentiamo subito le sue impressioni di corsa al microfono di Grazia De Santis Fabio Laghi vincitore della South Garda Roda Gran Fondo che cosa hai provato durante questo percorso ma il percorso mi è piaciuto molto perché praticamente salita ce n'è solo una io in salita purtroppo mi tocca difendermi essendo un po' pesante e mi sono salvato sono rimasto con un gruppetto subito dietro i primi che poi mi hanno praticamente riportato sotto avendo due compagni di squadra ho potuto rimanere a ruota e nel finale ci siamo allontanati in otto sapevo di essere più veloce Alessandro Bertuola mi ha aiutato molto quindi nel finale mi ha fatto praticamente curvare l'ultima curva per terzo e ho vinto abbastanza facilmente e se lo dice Fabio Laghi c'è da crederci intanto sono arrivati anche gli amici della squadra nazionale trapiantati capitanata dal quattro volte nazionale tre volte campione del mondo Andrea Tonti arrivano anche in maniera molto rilassata e tranquilla nello spirito pieno della South Garda però da anche questi amici amatori che precedono di poco l'arrivo della gara femminile vediamo che si risolve allo sprint con la vittoria di Maria Cristina Prati gruppo sportivo cicli Matteoni davanti a Valentina Gallo team armistizio terza Caroline Copiez team strassaker subito a caldo le impressioni di Maria Cristina Prati e complimenti a Maria Cristina Prati vincitrice della Gran Fondo come è andata questa competizione? beh è stata bella faticosa perché purtroppo a scollinamento della salita del tesio ho forato il mio gregario e capitano mi ha dato la ruota però poi ho perso il gruppetto dove c'era anche la mia compagna di squadra la Manuela Bugli e ho rincorso per 7 km ma niente da sola non ce l'ho fatta prenderli dopo mi ha raggiunto un altro gruppetto e pian piano li abbiamo ripresi però a inseguire è sempre dura comunque dopo ce la siamo fatta tutte insieme insieme anche a un'altra ragazza che è rientrata dopo e abbiamo fatto una bella volata in che momento hai forato prima o dopo quella salita lunghissima? allo scollinamento di quella salita lunghissima perfetto un momento perfetto sì perfetto proprio per perdere il gruppo è perfetto complimenti comunque perché sei riuscita ad ogni modo a portare a casa il risultato quindi grande forza di volontà sei da parte tua e delle tue colleghe complimenti davvero non c'è solamente l'agonismo per fortuna ma c'è anche la voglia di stare insieme in amicizia il colore e il calore siamo con il GS 92 Caselle provincia di Venezia Veneti puri insomma se non avete capito e vado da colui che è il portavoce di questo gruppo scatenato è proprio il caso di dirlo una giornata bellissima quest'oggi ieri pioveva oggi una giornata meravigliosa da punta della temperatura stupenda oggi è andato tutto bene ci ha permesso di festeggiare alla grande percorso bellissimo noi è già il quarto anno che facciamo questa gara e ci dà grande soddisfazione nel nostro piccolo chiaramente vedo che voi vallenate sì in bicicletta ma amate molto anche la cucina e le pietanze va bene così giusto soprattutto sulla bicicletta va bene però dopo va bene che stare con i piedi sotto la tavola certo soprattutto alimentazione di questa mattina stamattina due fette biscottate con la cioccolata di solito pane e salame però stamattina siamo stati leggeri dai questo è il colore il calore della Sud Garda Road ed ora fra poco andremo a mangiare anche noi la pasta siete d'accordo per la pasta? tutti d'accordo all'attacco all'arembaggio andiamo ciao ciao sta per terminare questa bellissima festa dedicata al ciclismo 2000 ciclisti si sono divertiti è successo davvero una grande festa quello che Tazio Palverini voleva nella sua mente è successo in realtà eravamo qui proprio ieri sera al tramonto oggi sono quasi le 14 tra l'altro siamo molto vicini alle premiazioni nell'altra piazza dove festeggeremo i primi però quello che conta per noi è festeggiare tutti i 2000 gran fondisti che sono arrivati qui a Desenzano per divertirsi assieme alle famiglie assieme a coloro che amano questa passione delle due ruote il fruscio delle ruote il vento che porta lontano col pensiero e con la fantasia ciao da Desenzano quarta edizione Sud Garda Road la prossima sarà nel 2013 sarà la quinta ciao arrivederci vado con il mio zaino buon pranzo e buon rientro a Paolo Malferra speaker della manifestazione carissimo amico e grande professionista a Desenzano del Garda anche i negozi sono stati stimolati a celebrare la bicicletta con l'allestimento delle vetrine più belle a tema e sono state anche premiate dall'organizzazione dall'amministrazione comunale Tazio Palvarini una bella idea anche per muovere il commercio verso lo sport sì un avvicinamento verso anche il commercio i commercianti che sono stati premiati con una bicicletta col Nago proprio da Ernesto col Nago grandi premi anche allora per i leader di gara questo è il podio femminile Prati Gallo Copiez nell'ordine poi ovviamente è il momento di premiare anche i più veloci della gara maschile nell'ordine nell'ordine dal gradino più alto Fabio Laghi Domenico Romano Roberto Cunico questo è tutto per la South Garda Road 2012 un grazie a Tazio Palvarini presidente di Sport Nature Tour un grazie a Gianluca Bosio responsabile del percorso appuntamento all'edizione 2013 un grande successo questa South Garda Road merito anche di grandi aziende che credono in questi importanti eventi Sì sono aziende come la mia di cui mi faccio portavoce che nonostante tutte le difficoltà economiche difficoltà legislative e crisi di vario genere riescono ancora ad andare avanti e quindi anche grazie a manifestazioni del genere riescono a dire siamo qui ci siamo e vogliamo fare riusciamo anche ad aiutare manifestazioni come queste che portano lo sport a portata di tutti Luca Bondioli un connubio quello della South Garda Road e Adici ormai consolidato Sì abbiamo creduto in questa iniziativa tre anni fa continuiamo a crederci e questa esperienza ci ha anche aiutato a realizzare l'ultimo capo che secondo noi è stata l'evoluzione di una serie importante di prodotti altamente tecnologici di un'evoluzione di un'evoluzione a realizzare di un'evoluzione